carlotta asmr ciao a tutti, come state? spero stiate benissimo benvenuti in un nuovo video scusatemi è partito il soft spoken ma sarà, io vi spero in questo video benvenuti in un nuovo video in cui vi parlo di tre libri più vi dico cosa sto leggendo adesso e subito prima vi ricordo rapidamente che nel negozio Etsy di mia mamma tutto è in super sconto non dico finisarimento scorte ma quasi perché purtroppo deve fermarsi non può lavorare per un po' per di problemi alle mani e quindi non potendo fare tantissime cose personalizzate comunque potete provare a chiederglielo se vi interessa sta cercando di smaltire un po' quello che ha quindi il segreto delle rune su Etsy vi lascio il link qui sotto questo è un esempio di collana in plastica riciclata con sfera in ceramica greca ma comunque potete chiedere le cose personalizzate perché se si tratta tipo di cambiare la la sfera o qualcosa che ha già pronto lo può fare per dire allora qui oggi fa caldissimo infatti sono in canottiera dunque vi parlerò di tre libri cioè cercami è il primo di cui vi parlerò quindi lo metto qua altrimenti faccio i danni l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello e lui c'è sempre perché adesso devo finire la trilogia il tribunale delle anime di Carrisi ah no vi ho detto gli autori ve li dico man mano tutti e tre si trovano più anche quello che sto leggendo adesso si trovano anche su Amazon vi lascio i link affiliati qui sotto ma chiaramente vi invito a passare dalle librerie se potete e invece se avete il Kindle non passerete dalla libreria allora il primo libro è questo cercami di Margherita Cagliardi Tonin e è l'autrice lei stessa che mi segue che ha scelto mi ha richiesto mi ha chiesto di potermi mandare il suo libro non è possibile per me rifiutare un'offerta del genere perché sono onorata che qualcuno voglia farmi leggere e visto che l'ho apprezzato molto anche in questo caso mostrare a voi le sue fatiche perché scrivere un libro credo sia veramente molto complesso e allora la protagonista di questo romanzo perché è un romanzo si chiama Laura sono poche pagine piccolino sono 208 pagine prima di dirvi la trama vi faccio vedere che ogni tanto ne faccio vedere solo perché il primo ci sono forse 6 7 interventi diciamo da parte di immagini e quindi le immagini ci spiegano quello che sta accadendo allora si parla di fantasmi tra virgolette fantasmi da diversi punti di vista Laura non ho mai creduto nell'esistenza dei fantasmi perlomeno non da che ne ha memoria un trauma ha cancellato ogni suo ricordo ogni ricordo scusate dei suoi primi dieci anni di vita con l'alibi di indagare sulla leggenda di un fantasma che alleggia attorno un'antica giostra di cavalli che è questa Laura si imbarca in una ricerca della verità che la porterà indietro nella sua città natale quindi quella dove viveva prima di aver rimosso la sua infanzia poi sotto parla di la tensione che sale insomma questo ve lo dico io allora appunto Laura è la protagonista la caratteristica del libro che se non sbaglio è in tre parti non voglio dire sottopettagini esattamente è che è diviso in tre parti è che ci sono spessissimo flashback cioè si parla con l'anno proprio in cui sono accato dei fatti quindi per dire Laura voglio dire ho invento Laura 2 giugno 2024 poi si torna per esempio a Sara 1900 ma so e non vi voglio dire le date non vi voglio dire niente quindi in pratica appunto questo flashback continua si torna al presente si riva al passato e Laura che appunto è la protagonista dovrà scoprire cioè come dire riporterà alla luce il suo passato e nello stesso tempo cerca di capirci qualcosa della leggenda di questa storia intorno intorno a questa giostra antica giostra di cavalli è veramente molto molto bello mi ha appassionato proprio la storia perché effettivamente fino all'ultimo istante si hanno dubbi non voglio non voglio spoilerare si hanno dubbi inizia subito con la scomparsa il primo capitolo di questa bimba che si che si chiama Sara e lei in prima persona a narrare anche questo mi piace che a seconda del capitolo il narratore cambia a volte parla in prima persona Laura a volte si guarda dall'esterno insomma mi piace molto e avvincente fino alla fine ho parlato già con Margherita le ho detto quello che penso e le ho fatto anche delle domande perché sono curiosissima molto curiosa e ho voluto approfondire diverse cose veramente bello ve lo consiglio è piccolino e non l'ho letto in due giorni perché mi sta appassionando e vale la pena io vi darei una possibilità poi Oliver Sacks l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello allora un po' questo uno dei libri più particolari che io abbia mai letto allora questo un pochino più grande sono 300 mi sembra no 87 allora io adoro questa edizione gli Adelphi proprio la adoro allora Oliver Sacks è uno psicologo mi sa anche psichiatra adesso non dobbio vedete no professore di neurologia professore di neurologia lo sapevo benissimo ma non so perché ho detto psicologo psichiatra comunque è un neurologo professore psicologico è un neurologo e all'interno riporta diverse storie dei pazienti che ha avuto sono tutte storie non è affatto noioso nonostante sia molto dettagliato sono racconti brevi sono molti racconti brevi in pratica il primo racconto che ci riporta è quello dell'uomo che scambiò sua moglie per un cappello accadono delle cose nel mondo che leggendo questo libro uno si dice sono veramente fortunato ma parla di queste patologie molto particolari veramente molto particolari in modo normalissimo quasi fossero degli avvenimenti quotidiani questo alone che hanno intorno le malattie mentali sono malattie mentali sono neurologiche più che altro cade tutto questo mistero questa paura che si ha intorno perché si le conseguenze sono importanti ma ci fa vedere il punto di vista del paziente non solo del medico ed è molto spesso esilarante nella sua tragicità potrebbe essere cambiata un po' l'inquadratura perché si era scaricata la videocamera il primo aneddoto appunto che racconta l'aneddoto è la prima storia che racconta appunto quella di quest'uomo che in terapia non so come chiamarla nella seduta da lui quando era in seduta da lui cercava di mettersi sua moglie in testa perché l'ha scambiata per il suo cappello e la moglie reagì come se niente fosse perché era abituata non mi viene il termine giusto per per quello che fa questo libro porca miseria non mi viene il termine vabbè pazienza comunque la malattia di quest'uomo patologia forse si è che aveva difficoltà come capirete a riconoscere i volti in pratica i volti per lui erano inesistenti riconosceva le persone dalle dalle dai movimenti del corpo dalla camminata dal profumo capite i volti delle persone per lui è come se non ci fossero ma questo è diventato così ovviamente e quindi aveva anche sviluppato delle altre capacità abilità è tragicomico veramente è molto carino non mi hanno appassionato tutte tutte le storie che racconta ma penso sia normale e più andavo avanti più mi dicevo mamma mia ma non esistono di ma non me lo dicevo con l'ansia cioè mi dicevo mamma mia quante cose non so come dire possono accadere all'essere umano siamo veramente insignificanti siamo molto fragili anche oltre che insignificanti passiamo poi al terzo libro che ho letto e vi stupirò di Donato Carrisi il tribunale delle anime che è una parte di una trilogia e questo è il primo volume vi faccio vedere come ha ridotto mia figlia sarà qualcuno che sta correndo a chiamare il medico dopo aver visto questa cosa e me l'ha rotto pazienza insomma sono ancora qui mi dispiace ma vabbè e allora ecco una trilogia il coprotagonista è Marcus per fortuna ho letto la quarta perché gli avevo detto una cosa anche stavolta che gli aveva spolerato siamo a Roma e c'è una ragazza che ha scomparsa e questo Marcus è addestrato a scopare il male però sta sempre in disparte tipo un po' misterioso va sempre a braccietto con un suo amico solo lui può salvare la ragazza questo dice la quarta poi di qua perché ci sono queste storie parallele poi si va nel passato classico di Carisi Sandra è addestrata a riconoscere dettagli fuori posto e nessì che sanno di una verità perché è una foto rilevatrice della scientifica in pratica lei arriva non capisco se sono a fuoco ok in pratica lei arriva sulle scene del non posso dirlo sono youtube fa cose strane piazza il suo cavalletto e fa le foto a tutto prima che arrivino quelli della scientifica c'è un dettaglio fuori posto anche nella sua vita che la ossessiona cioè deve indagare anche su qualcosa che fa parte della sua vita e a un certo punto si incrociano le strade di Marcus e Sandra lui per me è il re del thriller poliziesco psicologico crime tutto ma nonostante questo faccia parte dei primi libri che lui ha scritto non mi ricordo minimamente se sia uno dei primi devo dire che più di metà libro ho faticato a leggerlo per la prima volta con Donatone mi è successo non mi ha presa per niente il racconto ma zero oltre la metà perché proprio ero goggiuta a voler capire come mai non mi piacesse oltre la metà gli è cambiato tutto ma dalla metà in poi è cambiato proprio è cambiata gli eventi si sono ravvicinati un'esplosione di tutto oggi è stato quindi posso dire che mi è piaciuto molto non è fra i preferiti che a risi per me ma mi è piaciuto molto e sono stupita davvero dal fatto che scusate mi avete chiesto di fare tapping sui libri sono stupita tantissimo dal fatto che mi stia piacendo da impazzire il secondo cioè in genere i secondi terzi sono sempre meno accattivanti il secondo mi sta piacendo tantissimo ed è quello che sto finendo di leggere in questo momento che è il tribunale delle ane eh sì il cacciatore del buio e poi appunto c'è una trilogia ce ne sarà ancora un altro ma alterno qualcosa se non sbaglio penso di aver letto questi tre libri in quest'ordine Saks Carrisi e Cercami quindi dopo mi sono ributtata su Carrisi perché voglio sapere come va a finire questa storia di Marcus e Sandra non storia relazione questa storia insomma eh non ce l'ho qui il libro che sto leggendo perché è lì dietro sul mio comodino ma appunto sto leggendo il cacciatore del buio poi sicuramente vi avrò mostrato un libro che mi è stato regalato da Gabriele ma non ve ne riparlo qui lo ringrazio anche qui no forse non ve ne ho parlato ancora non lo so quando uscirà questo video comunque un altro libro di Clun quell'autore che mi è piaciuto tantissimo della Casa sul Mare Celeste che ha un'altra copertina fantastica devo dire dico questo perché me l'ha regalato oggi cioè me l'ha regalato per oggi cioè il giorno del compleanno del canale di 6 maggio ma siccome ho altri regali da farvi vedere non mi pronuncio a dire oltre bene spero che questo video vi sia piaciuto sto cercando di mettere meno libri nelle recensioni così posso fare più video recensione mi piace tantissimo recensire libri e guardare libri di recensione smr ma non ce ne sono mai ce ne sono pochissimi ma perché fate libri di recensioni non che non ce ne siano per niente ma ce ne sono pochi mannaggia la misera niente una mia richiesta spassionata ai creator di video smr vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti